buongiorno a tutti amici e che ci ritrovati qui con un nuovo video allora nel video di oggi vi farò la recensione del film di black panther wakanda forever allora ovviamente per me film marvel sono bellissimi sono fantastici mi è piaciuto ve lo consiglio se c'è ancora il cinema vi consiglio di andare a vedere non credo che ci sia però lo metteranno anche su disney plus quindi guardatelo perché veramente ne vale la pena mi è piaciuto un sacco e sono andata a vederlo al vittoria non so se riuscite a vedere ecco qua il segnalibro black panther wakanda forever molto molto carino anche segnalibro classico ci sta ci sta tantissimo penso niente questa era la mia brevissima velocissima recensione di questo film marvel vi consiglio ancora di andarlo a vedere se non l'avete fatto perché parla no non vi non vi voglio spoilerare niente nelle mie recensioni vi dico solo se vi più se può piacere oppure no a me è piaciuto tantissimo se siete fan marvel andatelo a vedere come ho detto prima e cos'altro dire niente andate a vedere anche i prossimi film marvel che faranno anch'io sono sono qui che sto aspettando che uscire che escano nuovi nuovi film niente ci vediamo qui sul mio canale con un prossimo video ciao a tutti